Grazie Assessore, l'intervento dell'Assessore Verri mi consente anche di a mia volta ringraziare Silvia che non è in questo momento presente, Silvia Paparella, amministratore delegato dell'Imtec Expo, che ci ha aiutato e ha consentito che questa conferenza oggi avvenisse, ci raggiungerà perché insieme a me modererà l'intera giornata, poi avremo maggiori dettagli anche sugli eventi del pomeriggio che riguardano sempre il sistema, quindi ci raggiungerà a breve e avremo modo anche di consentirle un breve saluto. Adesso invece era previsto l'intervento del Direttore Generale Giuseppe Bortone che ha avuto un piccolo problema di salute, niente di particolarmente preoccupante, ma non gli ha consentito di essere presente questa mattina. Immagino che i ferraresi in sala abbiano già riconosciuto il collega che lo sostituisce nel saluto iniziale, che è il collega Pierluigi Trentini, il direttore della sezione di Ferrara di Arpa, Emilia Romagna, Arpai. Sì, io sono il direttore della sezione di Ferrara appunto, ma soprattutto ferrarese e quindi in quanto tale sono stato selezionato da Bortone per sostituirlo molto impropriamente e semplicemente per portarvi i suoi saluti personali e quelli di tutta l'agenzia regionale dell'Emilia Romagna. I nostri rapporti con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e con il Remtec sono costanti ed importanti, insomma fin dall'istituzione dell'SNPA credo che Arpa Emilia Romagna abbia contribuito abbastanza affattivamente allo svolgimento dei lavori che tendono a portare il sistema a raggiungere i propri obiettivi nel tempo più breve possibile, obiettivi che sono quelli come tutti voi sapete meglio di me, l'introduzione dei LEPTA, l'organizzazione dei tavoli tematici ai quali abbiamo partecipato fin dall'inizio e che sono tuttora in corso, l'omogeneizzazione del lavoro che i nostri operatori in tutta Italia fanno sui territori per la vigilanza e il controllo. Dunque anche nei confronti del Remtec devo dire Arpa Ferrara in particolare essendo in zona e Arpa Emilia Romagna ha lavorato fin dall'inizio di questo convegno, di questi tre giorni che si svolgono ogni anno e contribuendo con risorse umane e personale dell'agenzia che ha sempre partecipato molto attivamente alle varie problematiche e ai temi che si sono presentati sui tavoli. Perché questo ovviamente? Perché i siti contaminati, bonifiche, sono il nostro pane quotidiano, il nostro personale tutti i giorni ha a che fare, ovviamente perché questo ci è richiesto dalle normative vigenti, ha a che fare con temi di questo tipo e come gli altri che sono qui rappresentati, che sono i cambiamenti climatici, il disesto idrogeologico, gli altri temi che sono dentro il Remtec oggetto di discussione in questi periodi. Quindi un'agenzia che ha cercato in questi anni, nonostante i continui cambiamenti, siamo ancora in una fase di tentativo di riassetto istituzionale, sapete che da un paio d'anni abbiamo cambiato nome anche perché la regione Emilia Romagna ha rivisto l'assetto istituzionale dell'ARPA e sono stati introdotti tutti gli operatori dei servizi ambiente di tutte le province dell'Emilia Romagna, siamo cresciuti in numero e abbiamo avuto altre funzioni, l'AE sta per energia e quella è la novità. Quindi voglio dire, nonostante tutti questi riassetti che sono abbastanza pesanti anche dal punto di vista dei tempi e dei modi per arrivarci, l'ARPA credo ha collaborato sempre effettivamente con il sistema nazionale di protezione ambientale e con il Remtec, visto che siamo qua. Quindi questo era per dire in due parole, insomma, chi siamo e che cosa abbiamo fatto in questi anni, basta, colgo l'occasione per rinnovarvi i saluti del Direttore Generale e di tutta quanta l'Agenzia, di augurare buon lavoro a tutti i partecipanti che continueranno anche oggi pomeriggio con i tavoli tematici e vi ringrazio per l'attenzione.